Circa trent'anni prima che il fiorentino Dante si inoltrasse in una selva oscura, iniziando così il suo viaggio nell'aldilà, che è a tutti noto come divina commedia, un altro personaggio si affacciava sull'abisso dell'inferno, fra dannati, diavoli, fiamme eterne, risalendo poi fino alla luce del paradiso. Stiamo parlando di Bonvesin da Lariva, che era un milanese, o meglio un ambrosiano, come si sarebbe definito con orgoglio lui stesso. Il libro è il libro delle tre scritture e non è certo famoso come la divina commedia, non è neanche così importante, è così complesso e approfondito come la divina commedia, ma appunto costituisce un antecedente, essendo stato scritto attorno al 1274 e non è escluso appunto che Dante in qualche modo lo conoscesse. Si chiama libro delle tre scritture perché Bonvesin appunto traccia tre diverse scritture, quella nigra, cioè quella nera, con la descrizione dell'inferno, delle pene, dei diavoli, dei dannati. C'è la scrittura rubra, cioè rossa, dedicata alla passione di Cristo. E c'è poi la scrittura aurea, cioè d'oro, dove si descrivono le meraviglie del paradiso. Come si può capire, quindi la differenza principale con la divina commedia di Dante è proprio il fatto che manca il purgatorio. Al posto del purgatorio Bonvesin della Riva invece descrive proprio la passione di Cristo, riprende in maniera poetica proprio i brani evangelici che raccontano la passione di Gesù, come le laude insomma contemporanee proprio di quel tempo, dei predicatori ad esempio Francescani. Non stiamo qui a dire che Dante ha copiato da Bonvesin della Riva, per carità, e neanche vogliamo fare proprio un paragone fra le due opere. La divina commedia resta veramente un capolavoro inarrivabile. E tuttavia già nel libro delle tre scritture di Bonvesin troviamo tutta una serie di riferimenti che poi ci saranno proprio nella divina commedia, come la divisione dell'inferno in gironi o la divisione del paradiso in cieli, cioè in glorie. Bonvesin della Riva è stato sicuramente un personaggio molto molto interessante, non solo come scrittore, tanto che è ritenuto il più grande autore in lingua padana del Duecento, ma era anche un maestro, quindi un educatore e un grande filantropo che ha fatto veramente tanto bene nella sua vita. Quello che a noi preme sottolineare è che entrambi i personaggi, sia Bonvesin della Riva che Dante Alighieri erano spinti nel creare le loro opere dallo stesso sentimento, dalla stessa volontà, cioè dare una guida agli uomini su come vivere bene su questa terra, ovvero nel segno dell'amore e della misericordia, pensando sempre alla vita che ci sarà dopo questa terre.